Mamma! Hai trovato qualcosa? Sette desideri. Colpa mia! Io desidero che Darcy Chapman marcisca oggi stesso. Oh mio Dio! Posso chiedere qualunque cosa? Soldi. Salite! Che cosa stai combinando? Amore. È successo davvero? Anche altri hanno avuto la scatola. Quando finisce la musica, arriva la morte. È un demone. Che cosa vuole? La tua anima. Io desidero. Non puoi controllarla! Lei controlla te! Non sapevo! Che sarebbe successo a questo? Cosa ti succede? È tutta colpa tua! Io desidero. Io desidero. Io desidero. Ciao! Io desidero.